E' necessario ed urgente programmare un intervento di manutenzione e riqualificazione delle strade provinciali 99 e 53 dell'Albanese, ricadenti nel territorio del comune di Pettorano-Sulgizio. E' quanto richiesto dal capogruppo del PD al Consiglio Provinciale dell'Aquila Ennio Mastrangeli attraverso una nota inviata nei giorni scorsi al Presidente della provincia Antonio Del Corvo e al settore viabilità. Da un sopralluogo effettuato congiuntamente con alcuni residenti, scrive Mastrangeli, ho avuto modo di verificare una serie di problematiche che riporto a voi unitamente ad un reportage fotografico che rende più evidenti le stesse. Viene sottolineato in particolare lo stato di abbandono quasi di degrado dei tratti stradali a causa della scarsa pulizia dei margini stradali con erbacce lungo tutto il percorso che non danno una buona immagine sia nel tratto di entrate e uscita dal centro storico di Pettorano sia nel tratto che unisce la frazione di Valle Larga con Sulmona. In questi tratti si notano oltretutto, prosegue Mastrangeli, diverse situazioni di pericolo. Muretti di contenimento e protezione di ponticelli a rischio crollo per cedimenti strutturali del terreno e basamento sottostanti. Alberi di grosso fusto sovrastanti le carreggiate con rischi di caduta per cause naturali o di maltempo come nevicate e forti venti. Cunette stradali non segnalate e opportunamente protette. Una curva stradale molto pericolosa, non adeguatamente segnalata o dotata di adeguati sistemi di rallentamento della velocità dei mezzi, così da ridurre il rischio di incidenti. Considerata l'oggettiva situazione critica esistente, pur consapevole delle scarse risorse economiche a disposizione, Mastrangeli rivolge un sentito appello alla provincia affinché si tenga in debita considerazione quanto segnalato. Il capogruppo del PD rileva inoltre i tempi lunghi per la riapertura della strada provinciale 10 Raiano Vittorito. Il responsabile del procedimento, fa sapere Mastrangeli, ha affermato che c'è il progetto di 400 mila euro, ma non ci sono le risorse che sarebbero dovute arrivare da presunti fondi FAS.